Nessuna destinazione Arrivavamo soltanto in posti e trovavamo luoghi nuovi, tutto per caso Forse era questa l'idea che mi ha fatto continuare a volermi muovere e che mi ha portato qui in Erasmus La stessa ragione per cui non avevo paura del Brasile Sono andato e basta Ho viaggiato a lunga adesso, ma non mi ha fatto di nuovo quello che ho fatto per lei Cambiare paese è una cosa diversa Quando lei mi ha portato in Brasile ho pensato, allora è così Il Brasile dove appartengo, ma immagino devo continuare a cercare Love yours No such thing No such thing My few Elena My few E poi quello della penesina Ah sì E poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti